Veloci, veloci chiede ai suoi Sannino, veloce come dovrà essere la squadra a riprendersi dopo il pessimo avvio. Eccole le prime immagini del nuovo tecnico del Catania subito attivo, presente l'allenatore di Ottaviano nel Napoletano, si fa sentire da indicazione, corre in mezzo ai suoi per illustrare ogni minimo dettaglio. Osserva Cosentino sperando di aver fatto la scelta che possa valere la svolta. Corrono i giocatori in campo, guardano gli altri, i convalescenti come Almiron che è ancora out, gli acciaccati come Rinaudo che proverà un disperato e difficile recupero. Sabato arriva il Modena e Sannino è già nel vivo del lavoro. A 57 anni dopo tanta esperienza la vita l'ha portato da Watford vicino Londra a Catania. 2000 chilometri che cambiano la vita anche se la sensazione e pure la certezza è che Sannino sia sempre artefice del proprio destino. Prende il toro per le corna, insomma, lui ha lasciato dopo otto mesi la panchina del Watford quando era secondo in classifica in championship la seconda serie inglese. È successo il 31 agosto scorso, in 15 giorni, il cambio radicale, il Catania bussa e Sannino si convince. Poi la storia è nota, ieri il primo giorno a Torre del Grifo, il discorso ai giocatori, i primi due allenamenti, oggi il terzo e fra poco la conferenza stampa di presentazione. In Inghilterra scrivevano che oltre allo scarso utilizzo della tecnologia i metodi della sergente di ferro di Sannino non andassero giù alla squadra e ai Pozzo, proprietari dell'Udinese e del Watford. La stampa lo chiamava old school manager, allenatore, vecchia scuola. Le stesse caratteristiche che hanno convinto il Catania ci sono momenti e momenti e adesso serve il pugno duro per provare a ripartire il più velocemente possibile. La stampa lo chiamava old school manager, allenatore, vecchia scuola.